Immagina come sarebbe vivere ogni giorno con una fiducia in te stesso che non conosce limiti, sperimentando una determinazione interiore che ti spinge a superare ogni ostacolo. Questo audio subliminale è stato progettato per lavorare a livello subconscio, infiltrandosi nella tua mente per eliminare le limitazioni autoimposte e sostituire i vecchi schemi di pensiero con nuove credenze potenzianti. Fatti affascinare dei poteri nascosti della tua mente mentre ascolti questa traccia audio speciale contenente particolari frequenze per stimolare la tua mente inconscia. Sarai avvolto da messaggi positivi, affermazioni potenti e suggestioni subliminali che lavoreranno in sinergia per potenziare la tua autostima, fiducia interiore e spronarti ad abbracciare il coraggio senza paura. Se ancora non sai cosa sono gli audio subliminali ti invito a cliccare il link qui sotto per scoprire esattamente cosa sono e come richiedere uno specifico adatto alla tua situazione con il tuo nome, su gestioni, frequenze e musica adatta esclusivamente alla tua richiesta. È il momento di osare essere straordinario, di superare i tuoi limiti e di abbracciare il coraggio in modo che la tua vita possa diventare una testimonianza vivente del tuo vero potenziale. Iniziamo! Utilizza auricolari o cuffie durante l'ascolto e seguilo almeno per 90 giorni per massimizzare i risultati. Ti ricordo che questi audio puoi ascoltarli anche mentre svolgi le tue attività quotidiane. Utilizza auricolari o cuffie durante l'ascolto e seguilo all'ascolto e seguilo all'ascolto e seguilo all'ascolto e seguilo all'ascolto. Utilizza auricolari o cuffie durante l'ascolto e seguilo all'ascolto e seguilo all'ascolto. Utilizza auricolari o cuffie durante l'ascolto e seguilo all'ascolto e seguilo all'ascolto. Grazie a tutti. 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 a tutti.